Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Nello scorso video abbiamo visto l'attacco in generale e l'azione di combattimento dell'attacco, ma naturalmente prendere a sprangate il proprio avversario in mischia non è l'unica cosa che si può fare durante un combattimento. O meglio, ci sono vari modi per prendere il proprio avversario a sprangate durante una mischia. In questo video andiamo un attimo a vedere quali sono i principali. Meglio chiarire subito che non ho intenzione di mettermi in questo video a elencare una per una tutte le manovre di combattimento. Quindi se state cercando qualche caso particolare di qualche oscura manovra uscita in un manuale di espansioni di terze parti, potete fare che chiudere il video qui. Per tutti quelli che invece vogliono rimanere, andiamo a vedere quali sono le principali manovre di combattimento, ho cercato di scegliere quelle che illustrano meglio le principali situazioni. La prima di cui è meglio parlare è probabilmente l'azione preferita e più abusata da grandi ecoccini, l'azione di carica. Come azione di round completo, il personaggio può correre contro il suo avversario e colpirlo con un poderoso attacco in mischia. Per via dell'azione avventata, il personaggio guadagna un più due al tiro per colpire, ma subisce un malus di meno due alla classe armatura. Per poter essere considerato in carica, il personaggio deve avere abbastanza slancio, quindi il movimento deve essere almeno di tre metri e naturalmente inferiore alla distanza massima di movimento del personaggio. Quest'azione comprende in sé molti elementi tipici delle azioni di combattimento. Occupa l'intero round, ma il personaggio esegue più cose, deve sia muoversi che colpire. Eseguirla fa prendere al personaggio sia dei bonus che dei malus. Il personaggio deve specificare un bersaglio preciso verso cui vuole che la sua azione venga eseguita. Tutte queste considerazioni fanno in modo che non sia sempre scontato che eseguire questa specificazione sia la scelta giusta da fare durante un combattimento. Il personaggio guadagna dei bonus al colpire, ma subisce anche dei malus, quindi di volta in volta il giocatore dovrà valutare se gli conviene che il suo personaggio carichi o che si limiti a muovere e magari poi colpire qualcos'altro. Un'altra azione emblematica è il lancio di un incantesimo sulla difensiva per non generare attacchi d'opportunità. Normalmente come azione standard, però ci sono delle eccezioni dipende dall'incantesimo, un personaggio può lanciare un incantesimo. Se però il personaggio immischia il fatto di dover gesticolare, muoversi, tenere una cadenza cantilenante per lanciare l'incantesimo, lo fa distrarre e quindi un personaggio avversario immischia con lui potrebbe sfruttare l'occasione per fargli un attacco d'opportunità. L'incantatore può evitare questo attacco d'opportunità se decide di lanciare l'incantesimo, però continuando a tenere la guardia alta, cioè lanciare l'incantesimo con una posizione difensiva. Per farlo l'incantatore deve superare una prova sull'abilità concentrazione con difficoltà pari a 15 più il livello dell'incantesimo che vuole lanciare. Se la supera lancia l'incantesimo normalmente, se fallisce l'incantesimo è perso, non subisce attacco d'opportunità ma l'incantesimo è sprecato. In prove di questo genere il personaggio deve eseguire una prova d'abilità o un'altra prova per poter effettivamente portare a termine quello che si è prefissato. Ci sono poi delle considerazioni tattiche da prendere in esame. All'incantatore conviene rischiare di perdere l'incantesimo ma lanciarlo alla posizione dov'è o sarebbe conveniente muoversi, magari fare un passo da 1-5 metri per portarsi fuori dall'area degli attacchi d'opportunità e poi lanciare l'incantesimo però rischiando di prendere meno bersagli con l'area d'effetto. Dipende dalla situazione contingente, sempre come nel caso precedente è il giocatore che deve scegliere cosa sia meglio che il proprio personaggio faccia. Ci sono poi altre azioni che permettono ai giocatori di fare qualcosa che normalmente gli è vietata. Ad esempio un personaggio può con un'azione di colpo di grazia uccidere sul colpo un altro personaggio. Sempre come azione di round completo un personaggio può cercare di infliggere un colpo di grazia e uccidere sul colpo un personaggio indifeso che gli è adiacente senza farlo passare tra i vari stadi delle ferite. Il personaggio che dichiara di eseguire il colpo di grazia colpisce automaticamente senza tirare e ai fini delle regole si considera che lui abbia eseguito un colpo critico. Il personaggio indifeso subisce normalmente i danni e deve fare un tiro salvezza sulla tempra con difficoltà 10 più i danni inflitti da questo attacco critico. Se non supera il tiro viene considerato automaticamente morto. Notate che il bersaglio è indifeso. Quindi nonostante non ci sia stato un reale tiro per colpire il personaggio ha comunque la destrezza all'armatura negata. Questo lo rende vulnerabile a tutta una serie di attacchi furtivi o amenità del genere. In più con questa azione c'è un altro caso emblematico, cioè un'azione che permette a un personaggio di imporre una classe difficoltà a un altro personaggio. Naturalmente non tutte le azioni d'attacco sono fatte per attaccare effettivamente o per infliggere danni. Altre azioni sono benevole. Probabilmente l'esempio più frequente di azione benevola è l'azione di aiutare. Se un personaggio è in mischia con un avversario ma in quella mischia ci sono anche dei suoi alleati, il personaggio può decidere di non cercare di colpire la classe armatura del suo avversario ma di eseguire un generico tiro per colpire contro classe armatura 10 e se lo supera può concedere a uno dei suoi alleati in quella mischia un bonus di più due o al tiro per colpire o alla classe armatura contro quello specifico avversario. Con questa azione si esegue una prova per concedere un bonus a un proprio alleato. Naturalmente però ci sono anche delle azioni che permettono di concedere dei bonus a se stessi. È il caso delle posizioni difensive. Se un personaggio rinuncia a eseguire delle azioni d'attacco o qualsiasi altra azione che non sia un'azione di movimento per spostarsi può come azione standard chiudersi completamente in difesa. L'azione viene chiamata la difesa totale. Un personaggio in difesa totale guadagna un bonus di più 4 di schivata alla classe armatura fino all'inizio del suo prossimo round. Normalmente questa azione viene utilizzata quando si sa di dover attraversare o l'area di minaccia di qualche mostro che potrebbe fare attacchi d'opportunità o in situazioni come corridoio con trappole che eseguono un tiro per colpire e roba simile in cui non c'è un effettivo bisogno di contrattaccare ma anzi più si aumenta la classe armatura meglio è. Naturalmente non è necessario rinunciare totalmente ad attaccare per avere qualche vantaggio difensivo. Un personaggio può decidere di combattere sulla difensiva come non azione in realtà come parte di un'azione d'attacco il personaggio può darsi un malus di meno 4 al tiro per colpire per ricevere un bonus di più 2 alla classe armatura. Questo tipo d'azione normalmente viene utilizzato contro avversari particolarmente grandi o comunque avversari che hanno una sproporzione con classe armatura molto bassa ma tiri per colpire molto alti per riequilibrare un po' la situazione. Credo che come esempi di quali azioni di combattimento esistano e come funzionino quelli che abbiamo visto finora siano più che sufficienti. Come qualcuno di voi che conosce già il sistema 3.0 3.5 può aver notato? No volutamente non ho voluto parlare della lotta e delle altre manovre di combattimento. Per prima cosa come ho già detto non ho intenzione di trattare né in questo video né in altri video ogni singola manovra di combattimento. Sarebbe un'attività lunga e noiosa. Se qualcuno è interessato a scendere nei dettagli del sistema 3.0 per usarlo nelle proprie partite ci sono i manuali, l'SRD è pubblica, ve la linko sempre qua sotto, quindi potete andare a approfondire da soli i dettagli che vi interessano. Secondariamente personalmente ritengo che il modo in cui viene gestita la lotta nella 3.0 sia inutilmente lungo e macchinoso e non in linea con l'immediatezza tipica di questo sistema. Già in sistemi derivati per altri giochi, sia basati sulla 3.0 che basati sulla 3.5, in molti casi sono state fatte altre scelte di meccanica per gestirla. Personalmente ritengo che la soluzione più elegante sia quella che viene utilizzata attualmente in Pathfinder, ma ne parleremo piuttosto in un altro video. Per quanto riguarda questo video invece è tutto, mi piacerebbe sapere da voi quali sono le vostre manovre di combattimento preferite e quelle che odiate di più e il perché. Naturalmente come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete che aiuta a crescere del canale. Comunque io sono il Master CAE e noi ci rivediamo al prossimo video.